È il giorno di Marco Armellino. Il centrocampista di Vicquenze è stato ufficializzato dalla società con un contratto della durata di due anni. Nel pomeriggio il classe 1989 si è aggregato al branco di Massimo Rastelli, al russo di Venticano. Una prima parte con il gruppo, poi nella seconda in disparte con D'Amico per gestire i carichi di lavoro. Nel frattempo è corso a conto il tempo per il ritorno al partegno Lombardi. L'Avellino incrocia le dita per la giornata di domani, dopo che gli operai dell'alto calore avranno completato i lavori del rimpianto di contratto zuccolari. Restando in tema stadio, o meglio del tifo, il termometro sale ancora. Nella mattinata è stata raggiunta la quota di 4.200 tessere sottoscritte. Nei giorni scorsi il club Irpino ha fatto sapere che la tribuna Terminio è andata sold out. In epoca recente per i colori bianco-verdi, per risalire a un traguardo simile, bisogna andare indietro con gli anni, fino al 2002, quando, dopo la promozione in Serie B, furono sottoscritti 7.000 abbonamenti a scatola chiusa. Restano in mente, fino alla giornata di domani, gli abbonamenti di Curva Sud e Tribuna Montevergine. Il gong è atteso per le 19 di mercoledì. Giovedì, invece, prenderà il via la prevenzione dei tagliandi per l'esordio casalingo contro i latina, in programma sabato sera al partegno Lombardi alle ore 20.45.